Siamo qua con Michele Mariani, direttore creativo di Armando Testa. Che tipo di esperienza è stata e che approccio avete utilizzato per questa che possiamo definire una campagna sociale per Telefono Azzurro? Abbiamo come agenzia Armando Testa la possibilità di lavorare con l'associazione da diversi anni e questo ci permette, prima di partire con il lavoro creativo, di approfondire veramente in profondità quelle che sono le tematiche più importanti e quindi isolare quelli che sono i contenuti più importanti da trasmettere. Una volta identificato il tema di questa campagna, cioè l'ascolto, il bisogno di ascoltare i bambini, il bisogno di interpretare le loro richieste, è stato più facile poi trovare un'idea creativa sul tema. Come sta andando l'azienda in questo 2013 anche rispetto al trend di contrazione degli investimenti nel mondo pubblicitario? Sappiamo ovviamente che è un momento di mercato complesso ma io credo che dobbiamo guardare al futuro con molto ottimismo. Ci sono nuove possibilità, c'è finalmente un'integrazione completa tra tutto quello che è il digitale e la parte tradizionale e finalmente smetteremo di parlare di questo derby tra digitale e tradizionale e credo che nonostante il momento di crisi comunque si aprono nuove scenari interessanti. Ovviamente in tempi di crisi quello che conta è la rilevanza dei messaggi e la consistenza della creatività ma credo che dobbiamo guardare al futuro con un occhio assolutamente ottimista. Dunque quest'anno avete rafforzato il vostro bouquet di clienti con Alfa Romeo, Stefanel, Montana. Che cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi mesi? Nuove campagne per questi clienti o nuove acquisizioni? Ovviamente stiamo lavorando su tutti e due i fronti quindi in questo momento stanno uscendo i lavori per i clienti acquisiti nei primi mesi dell'anno e negli ultimi dell'anno passato e in contemporaneo stiamo lavorando su più fronti per quelle che sono gare su clienti nuovi. Credo che questo è l'atteggiamento che ogni agenzia deve mantenere in un momento di mercato come questo. Per quali clienti proponete campagne ad alto coefficiente di integrazione digitale? Se ci può fare qualche esempio. Ma in questo momento possiamo dire che tutti i clienti si stanno muovendo con questa richiesta quindi che non c'è più questa distinzione che finalmente si parte su un progetto che prevede nello stesso momento uno sfogo sul digitale e uno sfogo sulla DV tradizionale quindi questa che ormai è diventata veramente un dibattito un po' noioso finalmente l'onda lunga si è completata e anche i clienti considerati un po' più tradizionali ovviamente stanno cercando leve diverse per arrivare ai loro consumatori per andare a cercarlo dove si muovono oggi.